Attenzione prego, informiamo soci e clienti che è possibile contribuire al restauro del battistero di San Giovanni. Noboli, abbraccia il battistero! E voi? Con una donazione in denaro o punti, sostieni il restauro di un luogo simbolo nel mondo. Una grande partecipazione popolare, promossa da Unico Firenze. Un modo diverso di sostenere l'arte e la bellezza. E chi dona 10 euro passa alla storia.